guarda che bordello che c'è qua guarda ma magari non se vuole più nessuno di questi pezzi burattini vai 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 che non vuoi? si si bravi si bravi complimenti si va bene mezza lobby sta qua vai gliela fate gliela fate si bravi si complimenti no mi ha scalato il basso ma magari finisce così o in noi se qualificiamo easy proprio magari ma quando mai oh ma che state ritardati se vedi no vabbè ragazzi mamma mia ragazzi non ce l'ha fatta io non ce l'ho a segretta dai guarda che stanno a fare grappate grappate prima che vi si sa dai gliela fate gliela fanno no si è qualificato tutto oh goto il 9 goto vai ragazzi dai ragazzi dove stanno i palli no boni boni vai regà vai vai regà vai vai buttate la palla del là del là butta del là fa 3 a 1 vai vai 3 a 1 si no cavallo de merda eh molto palle morì oh no va del là fra no ma che fai certo perché mi devo sbrigare che devo maniare gioco che dà si so te prego te prego te prego si sto goti goto 4 a 2 goto dai beh dai in 4 cento ma che ma ma dammi qualcosa altro in 4 goto dammi goto no sta merda di full mountain vabbè ma a me full mountain va bene si è quello è più difficile ma battene ma quello è più difficile mi ha dato incredibile oh ma allora fanno capire dove fa qui lo grabba senza motivo sei goto sei goto proprio sei goto proprio allora aspetta 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 pensa 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 si pensa quello che ti fa pensa come sta messo ma l'ho presa nel culo ecco ma l'ho preso ecco vai vai nantra vai easy vai nantra easy si 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 gode ma ma sei roba di sabli peggio di me mamma mia goto hai vinto si si ho detto raising qua